Tragedia a Mondello, una donna è rimasta uccisa schiacciata da un masso che ha travolto la sua abitazione. Ars ancora bloccata con missioni rinnovate ma mancano i presidenti. Nuovo sciopero dei dipendenti del call center Almaviva, secondo i sindacati si sta assistendo ad un imbarazzante immobilismo. Buonasera, nuovo appuntamento con l'informazione di Medianews, oggi è venerdì 27 novembre. Tragedia, nella notte a Mondello, una donna è rimasta uccisa schiacciata da un masso che ha travolto la sua abitazione, l'incidente provocato dalle abbondanti piogge. Tragedia stanotte a Mondello, un'anziana donna, Ornella Paltrinieri, 88 anni, è rimasta uccisa dentro la sua abitazione, travolta da una frana che le ha letteralmente devastato la casa. È accaduto in via Calpurnio, grossi massi e detriti di frana si sono staccati dalla montagna a causa di uno smottamento provocato dal nubifraggio che si è abbattuto nelle ultime ore su Palermo. La frana ha sfondato una parete e ha investito in pieno la donna che è rimasta sotto le macerie. Si trovava nella camera da letto al primo piano. Il pavimento, nonostante il peso enorme del masso, non ha ceduto. Sotto al piano terra vivono altre quattro persone che sono riuscite per fortuna a mettersi in salvo. Secondo una prima ricostruzione, insieme all'anziana deceduta nella stessa camera da letto, si trovava la nipote, Bianca Maria Lo Giudice, di 19 anni. È stata trasportata a Villa Sofia con una sospetta lesione alla spalla ed escoriazioni al viso. Presente in casa anche la figlia della donna deceduta, Donatella Galletti, 52 anni, che ha riportato soltanto lievi escoriazioni. I vicini di casa della signora Paltrinieri parlano di un rischio già noto. Avevamo più volte segnalato il pericolo di un distacco di massi dal monte, ma nessuno è mai intervenuto. Per il rischio di un distacco di altri massi si procederà, secondo i vigili del fuoco, allo sgombero di altri edifici della zona. La sala operativa della protezione civile regionale ha comunicato un livello di criticità moderata per rischio idrogeologico sul versante tirrenico e il versante ionico, codice arancione e fase operativa di preallarme, soprattutto su Catania e Messina. La protezione civile regionale ha comunicato che per la giornata di oggi sono previste su Catania precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. Nella classificazione di allerta da parte della protezione civile regionale la situazione è contraddistinta con il colore giallo di attenzione per il rischio idraulico e arancione di preallarme per il rischio idrogeologico, anche se soltanto nell'area della fascia costiera di Ognina. Le scuole dunque rimarranno regolarmente aperte. I fenomeni temporaleschi, sempre secondo la protezione civile regionale, potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, fulmini, forte vento e mare localmente mosso. A Messina si prevede fino alle 24 di oggi il persistere di precipitazioni, venti forti occidentali con raffiche di burrasca e possibili mareggiate lungo le coste esposte. L'amministrazione comunale raccomanda pertanto alla popolazione la necessaria prudenza di non sostare nei piani semi interrati e bassi, nei sottopassi e di non transitare e sostare nelle zone facilmente allagabili. La protezione civile comunale seguirà come sempre l'evolversi della situazione. Assemblea regionale siciliana ancora bloccata, commissioni rinnovate ma mancano i presidenti. Intanto il Movimento 5 Stelle ha raggiunto il numero per presentare la mozione di sfiducia al presidente Crocetta. Attacchi e indecisioni sono ormai all'ordine del giorno e così il Parlamento regionale siciliano rimane ancora impantanato. L'unica novità è che finalmente è stata approvata all'unanimità la nuova composizione delle commissioni parlamentari. L'insediamento avverrà martedì prossimo, quindi si procederà all'elezione dell'ufficio di presidenza delle singole commissioni. E sempre martedì si riunirà alla conferenza dei capigruppo. L'aula tornerà a riunirsi poi mercoledì 2 dicembre. Nel frattempo è tutto fermo perché ogni attività d'aula è condizionata proprio dalle elezioni dei presidenti delle commissioni parlamentari. Intanto incombe su Palazzo dei Normanni la mozione di sfiducia, la cui presentazione formale fermerebbe ulteriormente ogni attività. Ieri sera infatti sono arrivate le firme che mancavano affinché la mozione di sfiducia del Movimento 5 Stelle a Crocetta potesse essere presentata. Oltre alle firme dei 14 parlamentari 5 Stelle ci sono adesso le firme degli otto deputati di Forza Italia, Dinello Musumeci, Giovanni Ioppolo e Girolamo Fazio. La mozione sarà presentata domani mattina per arrivare presumibilmente in aula dopo l'8 dicembre. L'atto di sfiducia, precisa il capogruppo di Forza Italia, Marco Falcone, lo abbiamo condiviso e arricchito con tre punti che evidenziano la persistente incapacità di esecutivo e maggioranza. In primis l'incapacità di Palazzo d'Orlean di spendere i fondi comunitari. La mozione di sfiducia non è soltanto rivolta a Crocetta ma nei confronti del PD, dell'UDC e oggi di NCD che mantengono in vita questo presidente. Troppi tagli al bilancio. La giunta Crocetta rinvia il voto e spera negli aiuti. Lunedì infatti si riunirà a Roma il tavolo Stato-Regione per il piano di trasferimenti. Senza soldi in cassa il governo regionale ha approvato una delibera che prevede la richiesta unicredit di un'anticipazione di cassa pari a 270 milioni. Un prestito che per ogni mese di ritardo dalla restituzione rischia di costare 500 mila euro e prende tempo per l'approvazione del bilancio. L'assessore all'economia Alessandro Bacei ha portato all'esame e l'aggiunto una manovra che contiene poco più di un miliardo e 800 milioni di tagli. In attesa che da Roma arrivi un bonus di un miliardo e 400 milioni sono stati svuotati tutti o quasi capitoli che non servono a pagare mutui, stipendi dei regionali, pensioni. Salve per ora solo le spese obbligatorie e la sintesi estrema che fa l'assessore. Il bilancio 2016 nella formulazione attuale prevede poco o nulla per categorie come i forestali, i precari degli enti locali, i PIP di Palermo e per il finanziamento di tutti gli enti regionali. Bacei precisa che si tratta di un piano volutamente incompleto. Lunedì si riunirà a Roma il tavolo Stato-Regione per il piano di trasferimenti. Se arriverà l'intesa cambierà tutto. Nuovo sciopero dei dipendenti del call center Almaviva. Secondo i sindacati si sta assistendo ad un imbarazzante immobilismo riguardo questa avvertenza. 24 ore di sciopero dei dipendenti del call center Almaviva di Palermo divise per turni di lavoro. Secondo CGL, CISL, UGL che hanno già intrapreso un percorso di assemblee con i lavoratori si sta assistendo ad un imbarazzante immobilismo riguardo questa avvertenza. I sindacati hanno lanciato un appello alle istituzioni chiedendo il loro intervento per salvaguardare il futuro dei dipendenti di Almaviva. Sottolineando il dramma sociale che produrrebbe una degenerazione della crisi di un'azienda che occupa circa 5.000 lavoratori a Palermo e 1.500 a Catania. Le organizzazioni sindacali giudicano positivamente il confronto che si è tenuto a Villa Niscemi con il sindaco di Palermo, Leluc Orlando, e l'assessore alle attività produttive, Giovanna Marano, e chiedono un altro incontro urgente al governatore, agli assessori regionali alle attività produttive e al lavoro, a tutti i parlamentari nazionali, alle segreterie nazionali DSLC, Fistel, Wilcom e UGL, alle confederazioni sindacali CGL, CISO, Wil e UGL, al management di Almaviva Contact, per risolvere definitivamente la grave situazione che attanaglia migliaia di lavoratori. Rifiuti nella discarica palermitana di Bello Lampo ancora ferma un impianto da 22 milioni di euro sulle responsabilità e botte risposta fra RAP e Comune. Scoppia una nuova bufera intorno alla discarica di Bello Lampo. All'interno della struttura infatti ci sarebbe un impianto fermo costato ben 22 milioni di euro. Si tratta di un impianto di trattamento meccanico-biologico realizzato dalla regione per separare i rifiuti che possono essere riciclati da quelli inevitabilmente destinati alla discarica. Potrebbero essere trattate circa 1000 tonnellate di rifiuti al giorno e invece oggi tutto finisce in discarica, con enormi costi ambientali ma anche economici, che i comuni del comprensorio versano all'amministrazione di Palermo per poter utilizzare la discarica. L'impianto che permetterebbe di separare i rifiuti diminuendo lo smaltimento in discarica a Bello Lampo è pronto da aprile, dichiara l'assessore regionale ai rifiuti, Vania Contrafatto. Noi l'avremmo anche collaudato, ma si sono persi i mesi perché il Comune non aveva neppure predisposto l'allacciamento dell'energia elettrica. È anche grazie a impianti come questo che potremmo evitare una sanzione europea che c'è stata più volte annunciata. Immediata la reazione del Comune di Palermo e della RAP, l'azienda che gestisce gli impianti, che rimandano al mittente le accuse. Non c'è un ritardo, spiega Sergio Marino, presidente della RAP. Stiamo completando la formazione del personale. Poi partiranno le prove sperimentali. Sul collaudo invece non avevamo competenze, dipende dalla ragione e dalla ditta realizzatrice. Io invece chiederei alla ragione perché ha realizzato un impianto con un'altezza così particolare, al punto che i nostri mezzi non ci entrano e saremo costretti a cercarne di nuovi. E Marino lancia un avviso ai naviganti. Chi pensa che l'impianto possa essere subito messo in attività al massimo delle sue possibilità fa cattiva comunicazione. Sarà un'attivazione graduale. Solo ad agosto saremo al top. Cambiamo argomento. A Casteldaccia, commovente cerimonia di tumulazione per Topazia Aliata di Villa Franca, deceduta lunedì notte a Roma all'età di 102 anni. L'amministrazione comunale nei giorni scorsi ha allestito la camera ardente nei locali della torre Sala Paruta per consentire ai Casteldaccesi di darle l'estremo salute. Presenti anche le figlie Toni e Daccia Maraini. La principessa Topazia è stata una persona che rimane alla storia, sia per la gente che la conosceva, ma soprattutto per Casteldaccia e per i Casteldaccesi. Ricordiamo che la famiglia alleata ha dato origine, per così dire, al comune di Casteldaccia. Questo borgo inizialmente contadino, rurale, che poi si è sviluppato fino a diventare comune, a staccarsi da Solanto e a diventare comune proprio. Che dire che noi siamo onorati di ricevere qui la principessa che viene a riposare accanto a suo padre e a sua madre nella tomba di famiglia. Abbiamo accolto la figlia, anzi le figlie, oggi alla camera ardente che abbiamo organizzato. Certo abbiamo riconosciuto i massimi onori e ho detto stamattina che di fatto Casteldaccia, i 12 mila abitanti di Casteldaccia rappresentati da me, dalla Giunta e dal Consiglio Comunale, si stringono a loro per questo dolore, per questa perdita. Poi dobbiamo dire che Topazzi era una persona molto particolare, una persona che quasi ha rifiutato la sua posizione di nobile per sbracciarsi e vivere di qualcosa di proprio. È stata imprenditrice, ha portato avanti l'impresa di famiglia che era la Corvo, tu quasi alla baruta. Corvo che ha permesso a Casteldaccia uno sviluppo economico, è stato un volano di grande sviluppo per la città. Certo, è stato un grosso volano e adesso dopo, cioè è stata fondata il 1824 dal Duca e tuttora è in piedi ed è molto prospera. Stamattina ci diceva Dacia Maraini che fino agli ultimi giorni non mangiava più, non beveva più, però aveva il piacere di sentire il profumo del vino perché le dava sicuramente dei ricordi e poi le dava quello spirito di autoconservazione che la portava avanti anche in questa fase molto pesante della propria vita perché era malata, era anziana, aveva superato i cento anni. Quattro fari siciliani e un convento di Petalia Sottana cedute ai privati che sapranno presentare più validi progetti di trasformazione e strutture ricettive al via il bando dell'Agenzia del Demanio. Quattro fari siciliani pronti a rinascere grazie al progetto Valore Paese Fari lanciato dall'Agenzia del Demanio. I fari interessati sono quelli di Bruccoli di Agusta, Murro di Porco di Siracusa, Capogrosso di Levanzo e Punta Cavaz di Ustica. L'obiettivo è trasformarli in strutture turistico-ricettive attraverso bandi per la concessione che vanno dai 6 ai 50 anni, a quei privati che sapranno proporre un progetto imprenditoriale in grado di riqualificarli e rilanciare l'economia locale. I bandi aperti a cittadini e associazioni lanciati il 12 ottobre e disponibili sui siti agenzia-demanio.it e difesa-servizi.it sino al 12 gennaio sono stati preceduti da una consultazione online dalla quale sono venute fuori più di mille proposte e manifestazioni di interesse per gli 11 fari del territorio, di competenza appunto del Demanio e del Ministero della Difesa. La stessa procedura verrà utilizzata per recuperare l'ex convento dei padri riformati nella località Silva dei Riformati di Petralia Sottana. Anche per questa struttura si punta a trasformarla in un centro turistico e culturale di eccellenza che possa diventare un polo di servizi per tutte le madonie. Intanto, sempre l'agenzia del Demanio ha lanciato un concorso di architettura per valorizzare il faro di murro di porco di Siracusa. Fino al 29 febbraio architetti, ingegneri, artisti, progettisti, designer in team o individualmente potranno partecipare a un concorso di idee per valorizzare le potenzialità ricettive della struttura con un ponte premi complessivo di 15 mila euro erogato dalla fiera di Rimini. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci alle prossime edizioni.